di liberarti e non avrai la possibilità di venirne fuori, quindi quando è che è troppo tardi? Beh, quando sei innamorata o quando sei innamorato, per cui il processo di innamoramento va sempre gestito fondamentalmente, questo è il concetto di fondo, noi dobbiamo imparare a gestire il processo di innamoramento, perché se non sappiamo gestire il processo di innamoramento, salutiamo anche Giussi, alla fine siamo abbastanza panati, cioè non riusciamo a ottenere i risultati che vorremmo ottenere, quindi soprattutto quando abbiamo a che fare con persone che fanno parte non soltanto dei narcisisti, perché i narcisisti sono soltanto una parte fondamentalmente, ma c'è la triade oscura, salutiamo Green Apple, che è la nostra guionettina, quella che viene chiamata triade oscura è probabilmente ancora una situazione peggiore di quella che ci possono far vivere noi narcisisti. Che cos'è la triade oscura? La triade oscura sono personalità sicuramente narcisiste, ma non soltanto narcisiste, anche persone macchiavelliche, cioè persone che hanno, perché il narcisista ha la tendenza al dominio e alla svalutazione degli altri, no? Questa è la caratteristica del narcisista, quindi devi scoprirlo per tempo prima di innamorarti e ovviamente devi riconoscere anche persone che hanno tendenze macchiavelliche, cioè tendenze a sfruttare, allo sfruttamento, all'inganno e poi i pazzi, perché ci sono persone che si innamorano dei pazzi, degli psicopatici, persone che si innamorano dei folli, persone che hanno comportamenti antisociali, questo è ancora peggio, diciamo che questo è ancora, se vogliamo, più grave. Ovviamente c'è un'intersezione, c'è un'intersezione che è proprio la personalità oscura, che è veramente la situazione peggiore. Qual è la personalità oscura? La personalità oscura è una persona che ha tutti e tre i tratti, è come se ci fossero tre cerchi che si intersecano tra di loro e quando avviene l'intersezione tra le caratteristiche di un narcisista, le caratteristiche di un macchiavellico e pure pazzo abbiamo una personalità oscura, che quindi è una persona altamente manipolativa, sfruttatrice, folle, pazza e queste persone purtroppo hanno talvolta delle caratteristiche di saper far innamorare, no? E ci sono personaggi anche storici che possono avere queste caratteristiche, pensate ai vari dittatori, no? della storia, che possono avere queste caratteristiche messe assieme e che possono generare, diciamo, delle situazioni estremamente negative. Quindi noi dobbiamo tenere presente che quando incontriamo una persona dobbiamo prenderci del tempo. Come dico sempre, prima che sia troppo tardi, prima di innamorarti, aspetta di capire chi cazzo c'è davanti, perché, come dire, alle volte non sono, come dire, non sono tutti fiori, no? Come si dice, non sono solo rose, ma ci sono anche le spine, quindi devi imparare a non farti prendere, diciamo, devi osservare, no? Perché della persona perfetta. Tieni presente che spesso si innamorerà proprio di chi tanto perfetto non è, no? Ci sono persone che hanno atteggiamenti altezzosi, arroganti, che si aspettano di essere trattati diversamente dagli altri, che ti sfruttano magari per ottenere quello che vogliono, no? Che di fatto sì, apparentemente hanno un'empatia nei tuoi confronti, ma poi alla fine se ne fottono, alla fine non gliene frega un cazzo di te, di quello che fai, delle tue cose. Intanto ricordo a tutti che potete mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video e vi ricordo di dirmi come si vede, ditemi se si vede bene, Green Apple, Patrizia, perché ogni tanto mi dà qualche problemuccio, qua mi dice, riconnettiti, dimmi se si vede bene, veloce, rapida. E quindi ci sono anche persone che tendono poi, ecco un'altra caratteristica di persone estremamente negative è proprio l'invidia, è proprio l'invidia, si blocca, aspettate che faccio un'operazione, faccio un'operazione che non dovrebbe più bloccarsi, fammi fare un'operazione, bene, allora, vediamo un po', ecco ora dovrebbe essere a posto, ditemi adesso non dovrebbe più bloccarsi, vecchia malgascione, ditemi se adesso si blocca o no, ditemi come va adesso, dovrebbe andare adesso, provate a dirmi adesso, ok. Quindi, ma anche persone che tendono a essere disinteressate nei vostri confronti, persone che hanno disinteresse nei vostri confronti, persone che sono controllanti, persone che vogliono sfruttarti, che vogliono sapere quello che fai, quello che ti chiede dove sei, cosa fai, dove sei, cosa fai, come mai, perché vai lì, perché vai là, ci sono dei lati oscuri, no, ovviamente ci sono dei lati oscuri, persone che sono eccessivamente fredde, calcolatrici, potrebbero avere ad esempio le caratteristiche del Machiavellico, no, il Machiavellico, da dove nasce il termine Machiavellismo, no, nasce dall'opera di Machiavelli appunto, del principe che descrive, diciamo, le caratteristiche di questa persona, questo principe, salutiamo messenza, che per mantenere, diciamo, per raggiungere i suoi obiettivi, diciamo, per raggiungere i suoi fini, utilizzava tutti i mezzi, no, e da qui nasce il famoso detto, no, il fine giustifica i mezzi, cioè tutti i mezzi, Hitler per raggiungere il suo scopo ha, come dire, ha usato tutti i mezzi, insomma, anche il stermio di massa, che oggi anche vengono, venne spesso messi in atto. Quindi ci sono dei lati oscuri in queste tipologie di persone, no, ma anche i psicopatici, i folli, no, se vi innamorate di un pazzo, di un folle, di uno schizofrenico, di uno con disturbi mentali, non è che siete messe tanto bene, no, per cui bisogna imparare. Pazzo non intendo uno fuori di melone totale, pazzo intendo una persona, ad esempio, sociopatica, no, quindi che non ha dei codici morali, che non ha un codice etico, no, e quindi ovviamente una persona in assenza di codice etico potrebbe far di tutto, potrebbe distruggerti fondamentalmente, no, persone sadiche, ecco il sadismo, fate attenzione al sadismo, persone che possono volerti far male e queste caratteristiche non sono soltanto negli uomini, ma si trovano anche nelle donne, ovviamente, cioè teniamo presente che anche le donne possono avere queste caratteristiche, che normalmente è stereotipata nell'uomo, però tenete presente che anche le donne possono tranquillamente avere delle caratteristiche di triad oscura, quindi, e queste caratteristiche possono manifestarsi in tutti gli ambiti della nostra vita, quindi dobbiamo imparare a coglierle, si possono manifestare, diciamo, sia nelle, sia nelle, diciamo, come possiamo dire, sia nelle situazioni, no, di tutte le situazioni, ma banalmente talvolta si manifestano anche nel web, no, anche nel web ci sono delle persone che vengono fuori, no, che nell'anonimato, qui ci sono, come dire, salutiamo anche Barbie, i troll, ad esempio, no, persone che entrano, ad esempio, nelle varie chat, nelle cose, all'unico scopo di dar fastidio, danneggiare gli altri, e si trovano in tutti i social questi, no, anche questa tipologia di persone tendono ad avere tratti oscuri della personalità, no, perché danno fastidio, danneggiano senza un reale motivo, no, quindi l'obiettivo è quello di disturbare, no, si inseriscono, e ovviamente quello che avviene nella vita quotidiana avviene anche, salutiamo anche Fadel e Barbie, avviene anche nel web, no, le persone che utilizzano queste modalità dobbiamo tenere presente che sono personaggi estremamente negativi, quindi dobbiamo imparare a riconoscere le prime, soprattutto dobbiamo imparare a non innamorarcene, perché ci sono dei fenomeni predittivi, no, noi dobbiamo tenere presente che quando iniziamo a vedere dei segnali di persone, ad esempio gli scrocconi, no, quando hai a che fare con una persona che è una scroccona, ma lasciala, lasciala subito, oppure persone che ti, come diranno, una captazio benevolenza, no, che da subito iniziano, poi cambiano, persone che oggi sono in un modo, domani sono nell'altro, levatele dai coglioni, cioè non importa che sia bella, alta, con le tette grosse o col culo sodo, per sé una donna, o che sia bello, eccetera, eccetera, sono persone totalmente negative, no, quindi non dobbiamo lasciarci abbindolare da quello che chiamo oro di inizio, no, da quei tratti che dici, ah beh sicuramente questa è una persona interessante, no, dobbiamo renderci nel conto subito e chiudere subito la relazione, perché se riusciamo a chiudere la relazione, riusciamo a venirne fuori, riusciamo a non subire, no, queste condizioni, perché il vero problema, come dico sempre, è se non ce ne accorgiamo o non vogliamo accorgersene, perché spesso, come dire, avremo davanti a noi tutti i segnali, ma è come se non volessimo accorgersene, è come se facessimo come gli struzzi, mettendo la testa sotto la sabbia, e questo è un punto, è un punto fondamentale, no, quindi, e quindi dobbiamo imparare a non accorgersene, a non accorgersene, e cioè dobbiamo accorgersene, evitare di non accorgersene, non importa poi mettere l'etichetta è narcisista, non è narcisista, non ce ne deve fregare un cazzo, noi dobbiamo tenere presente che quando una persona non ci dà gratificazioni, per noi è la persona sbagliata, sia narcisista con noi, io quello che chiamo narcisista relativo, se quello è narcisista con me e non è narcisista verso un altro, a me non me ne frega un cazzo, e l'importante è che se si manifesta narcisista nei miei confronti, io me lo devo togliere dai coglioni, fondamentalmente, che poi con un altro, sia San Francesco, non me ne frega proprio una beata minchia, e l'importante è guardo come si comporta nei miei confronti, e se si comporta in modo che non mi piace, me lo tolgo dai coglioni, poi potrebbe essere pure San Francesco, potrebbe essere pure Gesù Cristo, potrebbe essere pure qualunque persona, ma io guardo come si comporta con me, e se con me non si comporta come a me piacerebbe, non me ne frega un cazzo che sia bella, alta, ripeto, con le tette grosse, il culo alto, comunque sia, non me ne fotte un cazzo, queste sono soltanto delle cose inutili, lo stesso vale per gli uomini ovviamente, perché andrei proprio a sbattere contro una relazione tossica, no? Tra l'altro i narcisisti o comunque le persone manipolative cercano sempre di accelerare i tempi, no? Perché vogliono, come dire, avere potere da subito, no? Quindi invece bisogna imparare a prendersi tempo, perché è importante conoscere la persona che abbiamo davanti prima di esserne coinvolti, quindi invece i narcisisti o i manipolatori cercano subito di costruire relazioni rapide, no? Addirittura se trovano la vittima ideale c'è qualcuno che dice, ah no, ma andiamo sposiamo, ci facciamo, no? Perché ti vogliono fondamentalmente sfruttare, questo probabilmente lo fanno più le donne, ma talvolta anche gli uomini comunque, quindi però poi diciamo questa tipologia di persone vanno, vanno diciamo allontanate, come dice Patrizia, perché devi allontanarlo, altrimenti entri nella, anziché mangiare il risotto, mangi merda e la merda però ti può nutrire comunque, no? Quindi anche ti coinvolgerai di più, perché paradossalmente scatta il meccanismo della dissonanza cognitiva, no? Cioè se io faccio qualcosa, se io faccio qualcosa per delle persone, se io faccio qualcosa per delle persone che non mi danno nulla o addirittura mi danno merda, vuol dire che devi innamorarmi, perché l'equazione sta in piedi soltanto se vado a generalizzare, vado a deformare la realtà e le vedo comunque speciali, oppure vado a deformare la realtà dall'altra parte, vedo io come, mi vedo me stesso come una persona di basso valore, quindi tra l'altro anche persone che ti triangolano, no? Che cercano di isolarti, che cercano di somministrarti abbandono, se una persona mi somministra abbandono, vedo subito l'aspetto positivo, mi sono tolto dei coglioni uno o una e quindi devo andare avanti, ma dobbiamo farlo da subito, non dobbiamo lasciarci prendere la mano fondamentalmente, perché poi diventa più difficile, è come un dente che se tu riesci a, come dire, a curarlo o a estrarlo diciamo prima che ti venga l'ascesso allora riesci, allora riesci a liberartene, grazie essenza, allora riesci a liberartene, ma è del dente diciamo, ma se tu sto dente non lo curi o non lo togli poi ti viene l'ascesso e allora ti viene l'ascesso, ti gonfia il viso, inizierai a soffrire, dovrai fare una cura di antibiotici per farti passare l'ascesso, insomma avrai un sacco di problemi e questi problemi però sono causa, sono causa tua fondamentalmente, non sei tu che, diciamo, brava essenza, è causa tua che ti sei andata a impelagare in questa situazione, ma noi non siamo soltanto i nostri problemi, noi dobbiamo essere anche la soluzione ai problemi, parti da questo presupposto, tu non sei il problema, tu sei la soluzione, tu non sei il problema, tu sei la soluzione e quindi devi imparare a essere la soluzione al problema e quindi devi levarti dai coglioni perché noi valiamo più di qualunque altra persona, noi siamo la persona più importante del mondo e poi non importa che questo sia narcisista, non sia narcisista, sia psicopatico, macchiavellico, narcisista inconsapevole, un pazzo inconsapevole o consapevole, noi dobbiamo tenere presente che noi non siamo comunque la fate bene fratelli, non siamo la croce rossa e quindi se una persona ha problemi che se li debba spupazzare da soli fondamentalmente, altrimenti restiamo vinculati diciamo in situazioni che ci porteranno soltanto negatività, ci porteranno soltanto sofferenza, quindi abbiamo tutte le carte regole per capire se abbiamo un partner maligno, un partner malvagio, insomma quello che ti tratta male, quello che non ti dà quello che tu vuoi, quello che cerca di isolarti, quello che cerca di essere geloso, quello che si comporti in un modo, quello che diciamo cerchi in qualche modo di farti sentire inutile, di farti sentire sbagliata, sbagliato, quello che utilizza il silenzio manipolativo che non ti parla, quello che ti dice che non sei mai abbastanza, quello che ti dice che ti fa vivere i sensi di colpa, salutiamo Fiammella, quello che ti vuole far vivere i sensi di colpa, quello che ti vuole far vivere situazioni, quello che ti dice che gli altri ce l'hanno sempre con lui, grazie senza, che gli altri ce l'hanno sempre con lui, quindi questo devi imparare a liberarti. Nel frattempo metti un like che non ti costa nulla, metti un like, fa girare il video su YouTube, se vuoi fare una piccola donazione al canale per dare un sostegno al canale puoi farla cliccando sotto al tastino col dollarino, se ti vuoi abbonare per sfruttare gli abbonamenti basta che vai nella home page e clicca sul tastino abbonati, salutiamo anche Deborah. Quindi ci sono anche persone che in qualche modo non ti apprezzano, non ti cercano, non ti vogliono, oppure viceversa persone che parlano molto e fanno poco, persone che per qualche motivo non sono interessate a te, persone che comunque a te non vanno bene, certo non importa l'imprinting, non importa niente, devi togliertele dai coglioni. Se una persona per qualche motivo o non ti piace, o non ti va, o non te ne frega un cazzo, te la devi togliere dai coglioni, non devi starci attaccato perché se ci stai attaccato rischi poi che piano piano ti innamori, ti innamori fondamentalmente, no? Sono le persone gelose, le persone che ti dicono dove sei, cosa fai, eri qua, eri là, parlavi con questo, ma vattene a fanculo, parlavi con quell'altro, devi levartele dai coglioni, non c'è verso, non devi dargli possibilità di interagire o comunque se interagisci, interagisci in modo superficiale, no? Senza coinvolgerti, la cosa fondamentale è che non ti devi coinvolgere, altrimenti diventerà tutto una situazione estremamente negativa, no? Non si tratta di cercare di sedurre queste persone, perché tanto, come dire, certe persone non possono essere coinvolte, certe persone non possono essere, diciamo, in qualche modo gestite. L'inganno, diciamo, consiste nella presentazione di una verità falsa, cioè persone che ti vogliono manipolare, persone che vogliono in qualche modo costringerti a fare delle cose, quindi tu devi liberartene. E poi l'importante è venire fuori, diciamo, da tutte le situazioni che per noi possono essere negative. Qualunque situazione negativa, che si tratti di una situazione legata, ma anche a una religione, no? Pensate come sono manipolative certe religioni. Ho fatto l'altro giorno un video sui testimoni di Geova e porca troia, no? I testimoni di Geova non puoi fare niente, non puoi scopare, non puoi candidarti alle elezioni politiche, non puoi, diciamo, fare neanche il rappresentante di classe a scuola, per dire. Non puoi appartenere a nessuna cosa delle forze dell'ordine, non puoi festeggiare i compleanni e ce n'era un mucchio di cose. Non puoi farti fare la trasfusione di sangue, non puoi seguire qualche altro culto, no? Solo quelli. Non puoi frequentare persone che abbiano, che appartengono ad altri culti, non puoi andare all'università, non puoi far questo, non puoi far quell'altro. Praticamente hai una vita piena di vincoli e sei vincolato. E allora devi imparare anche lì a renderti conto, no? Quando ci sono situazioni che per te sono negative, devi levarti dai coglioni, ma tutte le... la religione, religio, ti condiziona, religio, ti religio, non c'entra niente con il percorso... non c'entra niente con il percorso di crescita personale, con il percorso di crescita spirituale. Il percorso di crescita spirituale è una cosa, la religione è un'altra e l'istituzione religiosa è ancora un'altra cosa. Quindi noi dobbiamo imparare a essere liberi, dobbiamo imparare a essere liberi, dobbiamo imparare a non avere a che fare con nessuna situazione, no? Non dobbiamo avere sensi di colpa, il senso di colpa non dobbiamo viverlo. Cioè noi dobbiamo essere ciò che siamo, io sono quel che sono e quindi dobbiamo levarcene dai coglioni. Tutte queste persone, cose, situazioni che usano tecniche di manipolazione basate sulla paura, sul senso di colpa, sulla paura dell'abbandono, sul silenzio, sugli allontanamenti temporanei, sul fatto che ti dicono che è colpa tua, che è colpa qua, che è colpa... ma vattene a fanculo. Noi dobbiamo essere totalmente liberi, dobbiamo essere totalmente scevri, diciamo, da ogni situazione che ci può in qualche modo vincolare. Dobbiamo rendercene conto subito, dobbiamo rendercene conto subito, al più presto possibile, perché dobbiamo analizzare le persone per difenderci. Non possiamo innamorarci, non possiamo innamorarci di persone, diciamo... non possiamo innamorarci di persone che in qualche modo, diciamo, ci condizionano. Dobbiamo analizzare i comportamenti. Se i comportamenti non ci vanno bene, dobbiamo mettere le difese, dobbiamo allontanarci. E tutti noi possiamo... abbiamo davanti tutti i segnali. Certo che se non li vogliamo vedere, non li vediamo, no? E quindi dobbiamo imparare a vederle. Quindi dobbiamo imparare a sviluppare empatia con le persone empatiche, non empatia con persone che non sono empatiche, empatia con persone che in qualche modo non ci danno niente. Dobbiamo imparare a superare questi vincoli, altrimenti saremo vinculati. Dobbiamo non accettare le persone che ci fanno vivere paure. Dobbiamo non accettare le persone che ci fanno vivere dei sensi di colpa. E dobbiamo liberarcene. Cioè persone che ti trasmettono la sensazione di non farcela, anche persone estremamente negative, no? Quelle persone che dicono, eh vabbè, ma tu non ce la farai mai. Ma vattene a fanculo, uccellaccio del malaugurio. Mandate a fanculo tutti gli uccellacci del malaugurio che dicono, tu non ce la farai, lascia perdere. Quelle che dicono, lascia perdere, tu non ce la farai mai, lascia perdere. Ma vattene a fanculo. Dobbiamo acquisire sicurezza in noi stessi, dobbiamo acquisire fiducia in noi stessi, dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni. È ovvio che dobbiamo imparare a levarci dai coglioni e essere indipendenti, perché l'indipendenza noi dobbiamo, non dobbiamo farci manipolare mentalmente né in altro modo. I manipolatori sono, diciamo, individui che tutto sommato sono abbastanza facili da innescare, da riconoscere. Una volta che abbiamo riconosciuti, dobbiamo evitarli. Il verbo manipolare, il verbo manipolare significa deviare, non sviare, ingannare, perché il manipolatore perlomeno mette in atto un inganno, ti dà false informazioni. Cerca di farti fare delle cose che tu non rispettare la tua volontà, no? Quindi dobbiamo riconoscere anche i trucchi dei manipolatori. Il manipolatore ovviamente fa leva sulle debolezze delle persone, quindi vuol dire che non dobbiamo essere deboli, dobbiamo cercare di non essere deboli, dobbiamo cercare di non essere vinculati, no? Da questa tipologia di persone che in qualche modo ti scarcano la colpa, che in qualche modo cercano di sfruttare le tue debolezze, che in qualche modo cercano di rovinarti la vita, le persone gelose, possessive, sono relazioni tossiche. Dobbiamo imparare a riconoscere una relazione tossica. La cosa più semplice è l'infelicità. Se tu sei infelice vuol dire che quella relazione è tossica, non c'è per te tossica. Poi, come dire, è come un alimento che per qualcuno può andare bene, per te no. Se te una relazione ti rende infelice, quella relazione è tossica. Non appena percepisci che c'è più infelicità che felicità, o che la felicità non è a sufficienza, devi levartela dai coglioni. Devi levartela dai coglioni. E quindi non devi temere la paura dell'abbandono, non devi avere sensi di colpa, ad esempio. Devi avere sicurezza in te stessa, devi avere autorevolezza, e questo è fondamentale, no? Perché se non sei autorevole, se non hai sicurezza in se stesso, è ovvio che sarai più predisposta a essere, diciamo, a essere, come possiamo dire, influenzata da influenze nefaste, negative, è questo. Noi abbiamo tutte le chance, ma dobbiamo fare degli atti di coraggio, perché se non facciamo atti di coraggio saremo guidati, diciamo, da tecniche manipolative di persone che ci vogliono strumentalizzare, ingannare, mentire, ingannare attraverso la menzogna, e quindi dobbiamo, in qualche modo, oppure condizionarci, fai questo, non devi fare quell'altro, questo non va bene, quello non va bene, ma vattene a fanculo. Io faccio esattamente quello che mi pare e mi piace, me ne sbatto i coglioni altamente di quello che tu mi dici di fare e di non fare, faccio esattamente che cazzo voglio e sono completamente libero e se una situazione non mi va bene ti dico solo una parola, vaffanculo! E il vaffanculo è quello che è liberatorio, perché attraversi il vaffanculo tu ti liberi, diciamo, anche mentalmente di situazioni che non ti vanno bene e quindi devi semplicemente poi chiudere, non dare più chance, non dare più possibilità, non è che devi stare lì a dire forse sì, forse no, magari sì, magari no, no, il vaffanculo è, un vaffanculo è per sempre, è come il diamante, no? Vi ricordate, no? Un diamante è per sempre, un vaffanculo è per sempre. Una volta che tu gli hai detto vaffanculo non devi più tornare sui tuoi passi, per nessun motivo, anche se questa cade da cavallo e diventa come Paolo di Tarso, no? Che cambia completamente, un vaffanculo è per sempre, perché non lo sappiamo, no? Non sappiamo esattamente le persone con cui abbiamo a che fare, dobbiamo mettere un vaffanculo è fuori dai coglioni, questo è il punto importante, il punto fondamentale, il vaffanculo è come il diamante, è per sempre, una volta che dite vaffanculo fuori dai maroni, fuori dal cazzo, fuori dal cazzo per sempre. Questo credo che sia la cosa fondamentale. Se imparate a fare questo, niente e nessuno potrà più rompervi i coglioni, niente e nessuno potrà più, diciamo in qualche modo, condizionarvi, niente e nessuno potrà più manipolarvi, niente e nessuno potrà più farvi il lavaggio del cervello, niente e nessuno potrà più farvi la manipolazione mentale, niente e nessuno potrà più ricattarti emotivamente, moralmente, grande dipendenza emotiva, generarti scarso senso di fiducia nelle tue capacità, vaffanculo, il vaffanculo è liberatorio, il vaffanculo è un qualcosa che ti permette di liberarti, di andare oltre. Ecco questo è quello che devi imparare a fare e vedrai che in questo modo le cose andranno sempre per il verso giusto, sempre per il verso giusto. Nel frattempo metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonare. E quindi detto questo, esatto, ci vuole uno short e questo è fondamentale. Brava, grazie Green, farò anche lo short. Detto questo, un saluto a tutti, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifiche.